Ciao, buon Natale! Questo è il mio primo anno da bambino grande e come vedi sono pieno di tanti giochini perché le mie mamme me li comprano sempre da Bimbo Store. Spero che questo anno il Babbo Natale di Bimbo Store ci regali qualche giochino anche lui. Ciao ciao! Io lo dici ciao ciao? Ciao ciao!